L'errore su tutti, me lo deve dire in un telegramma, e poi chiedo a Caprari che a Senaldi prepararsi una domanda, anche quella telegrafica per Pizzarotti. Prego Pizzarotti. L'egoismo, il personalismo e non avere delle regole. Non avere delle regole? Ammazza, siete pieni? Già è pieno il Movimento 5 Stelle di regole. Sì, perché? Ma però quelle servono a distrarre, quelle reali che dovrebbero servire a capire chi comanda, chi decide. Adesso c'è un capo politico, ma voglio dire che il fatto che Casaleggio sia andato all'ONU ci deve dire tante cose dal mio punto di vista. Cosa ci deve dire? O che serve Grillo quando... ma ci deve dire che è evidente che il capo politico da solo non dirige nulla, perché poi quando c'è stato bisogno di votare l'accordo col PD, comunque è stato ritirato fuori Grillo che ha dovuto fare, come dice lui, il garante, come dire io, l'influenzatore, nel dire beh no, ma dopo tutto col PD stiamo bene, cosa che fino al giorno prima diceva il contrario. Quindi queste tre anime, una più, come dire, nascosta, una più presentabile politica e una più di ispirazione, alla fine trovano sempre un accordo e una media per governare, senza che questo sia scritto. Pizzarotti, grazie.